Brugnaro ha proposto stop al fumo in alcune aree aperte della città. Cosa ne pensi? I fumatori, intanto buongiorno a tutti, devono fumare perché togliere i vizi a chi ce li hanno? Questa è la domanda. Signor Brugnaro, tanti auguri. Stop al fumo in alcune aree di Venezia e naturalmente è vietato buttare mozziconi per terra. E' l'ultima proposta che forse passerà al vero e proprio divieto del primo cittadino. Perché? Perché è sempre più green la sua idea di una Venezia internazionale. E poi ci sono le zone dove tutti fumano, dove c'è più puzza e poi devi per forza separarti da familiari o cose del genere. Quindi non lo sono. La battaglia del sindaco contro le sigarette in Laguna inizierebbe dal centro San Marco e Rialti in testa. La sua idea? Nata di ritorno da un viaggio a Tokyo, città di cui è assiduo frequentatore anche questo veneziano, profondo conoscitore delle abitudini nipponiche. E mi vado a Tokyo due volte all'anno. A Tokyo non si fuma per strada. Mi ago imparà perché mi qua cofumavo, già ero abituato a buttare le cicche per strada come fa tutti. Mi ago imparà a non buttare soprattutto le cicche per strada e a fumar dove solo si può fumare, ai galezzoni perfumatori. E ago imparà appunto a non fumare per strada. E per cui non ho smesso anche qua a Venezia di fumare per strada e di fermarmi su un canton a fumarmi a me cicche col portacenere portatile. Esatto, perché i giapponesi fanno così e poi se lo portano a casa. E mi guaccia la loro abitudine. Abitudini che pochi di noi occidentali abbiamo, come conferma questa fumatrice americana. Lamenta la scarsa, se non assente, presenza di posaceneri pubblici. Non c'è enoughi canti di farlo per poter mettere le cigarete. Quindi è importante che posso camminare con questo. Con il sindaco che invece intende consegnare posaceneri portatili propri turisti in arrivo, visto che il mozzicone abbandonato impiega da 1 a 5 anni prima di decomporsi. È una buona idea, dice quest'altra turista, perché l'odore della sigaretta è pessimo e ne guadagniamo tutti in salute. È una buona idea, perché ogni volta che andiamo, la scarsa o la scarsa, ma non mi piace. Ma se si è andata, se si è andata, se si è andata o in o in o in o in o in, è meglio per tutto.